In marcia verso Londra è la capitale inglese l'obiettivo del 2017 di Diodorico Caporaso, il più forte marciatore campano che nell'ultima stagione ha preso parte anche alla 50 km olimpica. Quello di Rio de Janeiro resta un ricordo meraviglioso, esperienza unica e forse irripetibile, perché la prima emozione a cinque celchi non si può dimenticare. Ma l'ingegnere che ama marciare ha già voltato pagina. C'è un passo mondiale da conquistare e una nuova avventura da affrontare. Nel 2015 a Mosca fu sfortunato, un serio infortunio alla coscia, non gli permise di esprimersi al meglio nel finale di gara, quello che è il suo territorio preferito. Quando gli altri cominciano a soffrire e a rallentare, ecco che il Sannita esce fuori dalla distanza. In quell'occasione non fu così e Caporaso proprio per questo motivo vuole migliorare il suo piazzamento nella competizione irridata 2017. anno importante in cui magari proverà anche a ritoccare il primato personale. Non sarà facile, ma Caporaso è un ragazzo che è abituato ad andare oltre i limiti.